Nel rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto dello scorso 7 gennaio, Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo della Green Pass per consentire l'accesso alla rete dei 13.000 uffici operativi su tutto il territorio nazionale in modo semplice e sicuro. In tutti i locali che sono dotati di gestore dell'attese, i cittadini possono entrare esibendo il QR code della certificazione all'entrata. Riconosciuto il codice, il macchinario consente di scegliere l'operazione da effettuare e di prendere il ticket necessario per presentarsi poi lo sportello. Negli altri uffici postali è invece obbligatorio mostrare il Green Pass direttamente allo sportello per la verifica dell'operatore attraverso il lettore scanner che ne conferma la validità in tempo reale. Importante ricordare come prenotando l'appuntamento tramite app, la verifica della Green Pass viene eseguita sul momento. Discorso diverso se la prenotazione avviene dal sito, in questo caso lo controllo viene effettuato direttamente presso l'ufficio postale che si sceglie di raggiungere, insomma diverse soluzioni tra cui scegliere per poter usufruire dei servizi offerti da poste italiane, il tutto nel rispetto delle norme attive per contrastare la diffusione della pandemia.